Si beve, si beve troppo e si inizia sempre prima a consumare alcolici avviandosi così verso una forma di dipendenza subdola ma potenzialmente letale. Eppure, eppure l'alcol frequentemente non è percepito la stregua delle altre sostanze d'abuso. Incontrarsi per l'aperitivo fa parte delle modalità più comuni delle frequentazioni di gruppo, così come consumare alcolici durante i pasti è considerato normale. La realtà però è differente soprattutto se si considerano i casi di intossicazione etilica acuta che approdano al pronto soccorso. Nella nostra casistica abbiamo nel 2022 avuto circa 185-190 pazienti con intossicazione etilica acuta. Circa 190 casi in un anno, praticamente uno ogni due giorni. Circa il 10% sono stati, erano minori. Il paziente più giovane è 13 anni, molti pazienti invece erano al limite ai 16 e ai 18 anni. Pensare a un 13enne con intossicazione etilica acuta fa certamente impressione. Verrebbe la pena però domandarsi chi permette che tutto questo accada. Sono tutti ragazzi che assumono alcolici al di fuori dell'ambito familiare e quindi qualcuno glieli vende. Ma in che condizioni arrivano in pronto soccorso queste persone? Perdita dell'inibizione. Può arrivare sino al coma, quindi essere anche una patologia che richiede trattamenti invasivi. Ma normalmente nella maggior parte dei casi sono pazienti che sono poco reattivi, con un livello cognitivo basso. E sono pazienti che riescono ad essere gestiti con tranquillità. Il problema lo danno i pazienti che invece sono molto agitati, al limite anche del dovere essere contenuti. Un trattamento particolare riguarda i minorenni e le minorenni. La gestione iniziale, la stabilizzazione del paziente è infatti in pronto soccorso. Poi vengono trasferiti in pediatria dove invece vengono tenuti in osservazione fino a che non si riduce il tasso alcolico. Su questi ragazzi però abbiamo l'obbligo di produrre il referto della giudiziaria, contattare i genitori e poi spesso anche di denunciare la cosa. C'è poi il capitolo giorno dopo, il momento in cui si realizza quanto accaduto. Prevalgono la vergogna, il sentimento del pericolo corso o ancora la consapevolezza della sciocchezza commessa esagerando con i drink nel caso dei più giovani? Le reazioni dipendono dal soggetto. Alcuni sono dispiaciuti, si rendono conto di aver commesso un errore comunque di averli essere stati poco attenti nella gestione dell'assunzione di alcolici. Altri sono non curanti del fatto che hanno avuto un episodio di questo tipo. I genitori molto più spesso sono invece dispiaciuti, sono abbastanza afflitti dalla situazione.